Dopo il seminario, la lezione di venerdì scorso su anti-ebraismo, anti-semitismo, anti-sionismo, giudeofobia, che ha visto poi come ospite, illustre ospite, il musicologo Massimo Acanfora Torre Franca e la terza tappa, quella di oggi, è sul concetto di Dio dopo Auschwitz. Nel corso del secondo novecento sono stati molti gli intellettuali ebrei, soprattutto i filosofi, che si sono confrontati con un drammatico interrogativo. Dio, come ha potuto permettere Auschwitz? Perché per l'ebreo, che vede nell'aldiqua il luogo della creazione e della giustizia, sottolineo proprio della giustizia, Dio è il signore della storia. E quindi Auschwitz rimette in questione il concetto stesso di Dio che la tradizione ha tramandato. Quindi chi non intende rimuovere il concetto di Dio deve pensare però questo concetto in modo del tutto nuovo. Do la parola al professore Giacomo Fronzi e poi ci sarà occasione, se lo ritenete, di porre delle domande alla fine dell'intervento. Grazie. Grazie preside e ancora buonasera a tutti, ai colleghi e ai ragazzi. Purtroppo anche questa volta preside come la scorsa devo prima un attimo chiudere i conti con la puntata precedente perché appunto, come ricorderete, a un certo punto ci siamo interrotti per dare spazio a Massimo Campolatore Franca. Tra l'altro credo che sia stata davvero molto interessante la presenza di Massimo l'altro giorno perché appunto abbiamo sentito una voce autorevole, una voce dal di dentro, dall'interno di quel mondo. Quindi credo che sia stata davvero molto utile. Ecco, ricorderete che ci siamo arrestati qui, ci siamo fermati qui, quando stavamo cercando di capire, di dare storicamente una risposta al perché gli ebrei siano stati sempre demonizzati, perché nel corso della storia ci sono stati, come dire, a ripetizione momenti nei quali gli ebrei sono stati oggetto di persecuzione. E ci eravamo fermati a questo passaggio dall'anticristo di Renan del 1873. Ecco, io davvero cercherò di essere quanto più rapido possibile, ma capite bene che le lezioni che avevo preparato erano in vista appunto di incontri in presenza anche un po' più lunghi, quindi diciamo che devo un po' adeguarmi, ma comunque sia tenete conto ragazzi che siamo già d'accordo con la vostra dirigente, metteremo poi a disposizione le cinque presentazioni, quindi con tutte le slide, dopo che le avrò riguardate un attimo, in modo tale che poi possiate anche rivedervele, riguardarvele, insomma, se vorrete, e studiarle eventualmente con calma. Dunque, eravamo arrivati, eravamo rimasti qui. Succede poi qualcosa, questa sorta di, questa idea degli ebrei in qualche modo responsabili delle loro stesse sventure e quindi della giudeofobia che nascerebbe, si configurerebbe come una sorta di reazione antiebraica e quindi avrebbe un carattere difensivo. Ecco, questa idea ritorna poi nel Novecento con le conseguenze, gli esiti drammatici e unici nella storia dell'umanità che ben conosciamo. E ovviamente qui arriviamo al nazismo e a Hitler. Io vi prego di ricordare sempre quello che ci siamo detti la scorsa volta, cioè che Auschwitz, i campi di sterminio, rappresentano l'ultima, anzi, no, neppure, non è pure l'ultima, ma direi una la più tragica, la più drammatica, la più impensabile nelle sue proporzioni, una delle tappe di questo percorso, come abbiamo visto, plurisecolare che ha visto gli ebrei oggetto di persecuzione. Quindi non è un caso isolato nella storia, ma il peggiore, ma uno dei casi di persecuzione e di sterminio, in questo caso, degli ebrei. Ecco, leggete che cosa scriveva il 13 febbraio del 1945 Hitler. Gli ebrei hanno sempre suscitato l'antisemitismo, quindi anche Hitler si inserisce in questo filone di coloro che attribuiscono agli ebrei la responsabilità dell'antisemitismo. I popoli non ebrei, nel corso dei secoli, dagli egiziani fino a noi, hanno reagito tutti allo stesso modo, scrive Hitler. Arriva un momento in cui sono stanchi di essere sfruttati dall'ebreo abusivo. Altra accusa che verrà mossa anche nei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, quando verrà creato lo Stato di Israele, ma di questo parleremo, anche in quel caso agli ebrei verrà addebitato questo di occupare una terra, uno spazio in modo abusivo. Allora reagiscono brutalmente. È un modo istintivo di reagire. L'antisemitismo non potrà mai scomparire perché sono gli ebrei stessi ad alimentarlo e ravvivarlo continuamente. Bisognerebbe che sparisse la causa perché scompaia la reazione. L'antisemitismo sparirà solo quando spariranno loro. E questo è ovviamente in piena Seconda Guerra Mondiale, siamo nel 45, quindi anzi ci stiamo avviando verso la conclusione della guerra quando ormai già sappiamo che l'attività nei campi di sterminio era più che avanzata. Una breve parentesi sui protocolli dei Sabi di Sion, perché magari qualcuno di voi l'ha sentito questo titolo, o magari no, però è interessante sapere di che cosa stiamo parlando, perché tra le varie cose che ci siamo detti la scorsa volta c'è stata anche questa, che l'avversione, la persecuzione nei confronti degli ebrei è legata anche a interpretazioni complottistiche del loro ruolo nella gestione del mondo. I protocolli dei Sabi di Sion non sono un documento vero, sono un falso documento in cui si parla di questo piano segreto che gli ebrei avrebbero architettato per conquistare il mondo. Ed è nel 1903 che inizia a circolare una pubblicazione delle centurie nere, che era un gruppo di destra ultranazionalista russo, ed è presentato come fosse un verbale, un verbale redatto in occasione di questa ipotetica, fantomatica riunione dei Sabi di Sion. Quindi questi Sabi di Sion si sarebbero riuniti, in una di queste riunioni sarebbe stato redatto questo verbale e il verbale sarebbe poi diventato famoso con il nome Protocolli dei Sabi di Sion. In realtà è un collage di plagi da testi vari, tutti ovviamente dal carattere fortemente antisemita, e che i poliziotti russi, la polizia russa, quindi siamo in Russia e non in Germania, ha creato per giustificare la persecuzione degli ebrei. Pensate che fino agli anni 10 la circolazione del libro resta all'interno dei confini russi, ma dopo la prima guerra mondiale inizia a circolare in altre aree d'Europa, fino agli Stati Uniti, dove addirittura Henry Ford, il Ford delle auto per capirci, ne fa stampare mezzo milione di copie. Pochi anni dopo nel 21 il quotidiano Times dimostra che si tratta di un documento falso, ma ovviamente c'è chi continuerà, voi sapete che le fake news anche quando vengono smascherate continuano ad avere vita, a volte anche lunga vita, ecco i protocolli dei Sabi di Sion sono una enorme fake news che ha continuato a perpetrare le proprie conseguenze negative anche dopo che il Times rivelò e dimostrò la non autenticità di questo documento. Ecco, questi sono i protocolli dei Sabi di Sion, avevo messo qui appunto l'indice e giusto per darvi un'idea, queste sono alcune delle cose che sono scritte in questo fantomatico testo. Il nostro trionfo è stato reso più facile dal fatto che nelle nostre relazioni con gli uomini abbiamo sempre lavorato sulle corde più sensibili della mente umana, sull'argomento del denaro, sulla copidigia, sull'insaziabilità dei bisogni materiali dell'uomo e ognuna di queste debolezze umane presa da sola è sufficiente a paralizzare l'iniziativa perché consegna la volontà degli uomini a disposizione di chi ha comprato le sue attività. Ma non vi leggo adesso tutto perché appunto poi magari leggete da voi perché dobbiamo andare un po' rapidamente. Che cosa succede? Succede che nel 23, in occasione della pubblicazione della terza edizione dei protocolli di Sabi di Sion, nella postfazione quest'uomo che vedete in foto, Alfred Rosenberg, definisce in qualche modo l'ebreo e lo definisce anche a partire da una vera e propria lotta mortale che si colloca nella storia dell'uomo tra l'ebreo e l'ariano. E potete leggere che cosa scrive Rosenberg. Nella nostra storia l'ebreo si erge come nostro avversario metafisico. Oggi finalmente sembra che si inizia a percepire e addestare questo principio eternamente estraneo e nemico che ha acquisito una simile potenza. Per la prima volta nella storia l'istinto e la conoscenza sono giunti a chiara coscienza ed è dal punto più alto di potenza, come dalla cima di una montagna avidamente scalata, che l'ebreo precipiterà nell'abisso. Anno 1923. Ovviamente questi tentativi di demonizzazione multipli che si sono presentati molte volte nella storia trovano anche nei protocolli dei savi di Sion un altro pilastro, questa volta appunto legata a questa ipotetica, fantomatica organizzazione sionista che aveva come obiettivo finale la conquista del mondo. Io farei così, andrei ancora un po' avanti rispetto a questo che state vedendo adesso, le dimensioni della giudeofobia, anche perché in parte alcune di queste cose le abbiamo già dette e andrei rapidamente alla parte che più ci avvicina e cioè al nazismo. Dunque, scusatemi se salto, ma ripeto, poi avrete modo di riguardare con calma tutto questo. Ecco, anche i miti anti-ebraici sarebbero da sottolineare perché sono alcuni delle, appunto, vengono definiti miti anti-ebraici, non perché siano delle cose positive, al contrario, ma perché sono delle idee che si sono consolidate nel corso del tempo, nel corso dei secoli e che hanno, appunto, hanno avuto una tale capacità di penetrazione nelle società e nelle culture e nelle comunità da diventare, da consolidarsi e diventare, configurarsi quasi come dei miti. L'odio verso il genere umano, l'assassinio e il cannibalismo rituali, il deicidio, cioè gli ebrei sarebbero al contempo assassini di Cristo e figli del demonio, la maledizione dell'eterna erranza legata al fatto di aver rifiutato Cristo. Come vedete c'è anche qui una cozzaglia di elementi che mescolano questioni religiose con questioni più genericamente antropologiche. Queste sono alcune, appunto, alcuni dei miti anti-ebraici che si consolidano nel tempo e che confluiscono drammaticamente poi nell'ideologia nazionalsocialista. Prima della seconda guerra mondiale, e arriviamo all'ebreicidio quindi, i più radicali ideologi nazisti oscillavano tra due soluzioni, non erano ancora convinti di che cosa farne di tutti questi milioni di ebrei. Che facciamo? Li cacciamo in massa o li sterminiamo? E già nel Mein Kampf, sapete il libretto che Hitler scrive mentre è in prigione, aveva fatto riferimento a possibili, potenziali uccisioni di massa. Nel 1927 Himmler, che vedete qui in fotografia, Heinrich Himmler, che era di fatto il numero due, era il ministro dell'interno, il numero due di Hitler, è colui che ha effettivamente, praticamente ideato e organizzato lo sterminio in massa, resta affolgorato letteralmente da un passaggio che legge nel libretto di Hitler. Ecco il Mein Kampf. E scrive Hitler, se all'inizio, nel corso della guerra, 12 o 15 mila di questi ebrei corruttori del popolo fossero stati esposti una sola volta ai gas tossici che centinaia di migliaia dei nostri migliori lavoratori tedeschi di ogni provenienza e professione hanno dovuto subire sul fronte, il sacrificio di milioni di uomini non sarebbe stato vano. Al contrario, se ci si fosse sbarazzati per tempo di qualche migliaio di canaglie, si sarebbe forse salvata l'esistenza di un milione di buoni e bravi tedeschi pieni di avvenire. Come se fossero soltanto i tedeschi a essere degni di un avvenire e non qualsiasi essere umano. Ecco, a quanto pare all'inizio il regime non aveva pensato, nonostante queste deviranti parole di Hitler, non pensava effettivamente di organizzare uno sterminio, ma di spaventare gli ebrei e di cercare in qualche modo di indurli all'emigrazione. Tuttavia Hitler, da quando prende il potere, quindi siamo all'inizio degli anni 30, inizia a sostenere l'idea di un antisemitismo della ragione. Quindi di un antisemitismo che doveva essere suffragato, supportato dalla ragione, dalla teoria se vogliamo anche, ed ecco il motivo per il quale anche Hitler si rifà a quella non corta, ma lunga serie di testi, di pubblicazioni, di articoli, di saggi, di libri, alcuni dei quali abbiamo anche citato, che sono datati secondo 800. Ecco, fare appello alla ragione per dare forza a un antisemitismo che risolvesse la questione ebraica. E questo antisemitismo della ragione non si limitava alla messa al bando degli ebrei, non si limitava, non si sarebbe potuto accontentare di vedere gli ebrei uscire dalla terra, dal sacro suolo tedesco, ma implicava la loro eliminazione sistematica. E quindi l'obiettivo era quello di rendere la Germania, per dirlo appunto in tedesco, Judenrein, cioè ripulita dagli ebrei, oppure Judenfrei, libera dagli ebrei. E a partire dal 37 le SS, le squadre di protezione, iniziano a ipotizzare, prima di organizzare effettivamente lo sterminio, iniziano a ipotizzare uno spostamento in massa degli ebrei, addirittura pensando a una riserva ebraica da realizzare in Madagascar. Qui c'è un altro passaggio, un'altra citazione che vi ho voluto riportare, che è datata a 1938, nel quale questo Junter Dalquen, che era un militare, un ufficiale tedesco, immagina che fosse il trattamento da riservare agli ebrei, per arrivare appunto al suo, come vedete qua, totale annientamento. Uno dei momenti preliminari, diciamo così, allo sterminio effettivamente organizzato e realizzato è la famosa Notte dei Cristalli, tra il 9 e il 10 novembre del 1938, organizzata da lui, da Josef Goebbels, altra figura di rilievo del regime nazista, era il ministro della propaganda. Mi sentite? C'è qualche problema tecnico? O forse era solo partito un microfono? Sì, penso di sì. Mi sentite, vero? Sì, sì, tutto a posto. Perfetto. Dicevo, Goebbels è ministro della propaganda, che organizza appunto questa vera e propria operazione su larga scala, diciamo così, perché coinvolgeva sia la Germania che l'Austria, è un'operazione anti-ebraica. Qual è il risultato di questa follia di una notte? Come vedete i numeri sono eloquenti, 319 sinagoge distrutte, 7500 negozi ebraici distrutti e saccheggiati, 118 ebrei uccisi per strada, centinaia di ebrei picchiati, 30.000 maschi ebrei arrestati e mandati in campo di concentramento. Queste sono alcune fotografie del giorno dopo, le giorni successivi a quella drammatica notte. Goebbels, quest'uomo appunto del ministro della propaganda che abbiamo appena visto, nel diario del 19 agosto del 41 scrive, il Führer è convinto che la profezia che aveva fatto al Reichstag il 30 gennaio del 39, secondo la quale se il giudaismo fosse arrivato ancora una volta a provocare un conflitto mondiale e l'esito sarebbe stato il suo sterminio, sia per realizzarsi. Si sta inverando con un grado di sinistra certezza. E ancora nel 43 Hitler, in un discorso al partito, dice il giudaismo agisce in tutti gli stati nemici come un elemento motore dinamico, dobbiamo concluderne che gli ebrei vanno eliminati non soltanto dal territorio del Reich, cioè dalla Germania, ma anche da tutta Europa. Il risultato sarà quello che sapete, la realizzazione, la costruzione, in alcuni casi si è trattato di una conversione, diciamo così, o da sedi militari, diciamo così, da strutture militari o anche da stalle, come nel caso ad esempio di Auschwitz II, o la realizzazione vera e propria, di Lager, in vari paesi d'Europa, in Germania, in Polonia, in Norvegia, come vedete. Qui vi ho riportato un elenco di numeri e di luoghi di cui parla Ljusi Davidovich nel suo The War Against the Jews, che è 3845, che è un libro pubblicato nel 75. Questi sono i numeri drammatici dello sterminio, come ci diceva anche la scorsa volta Massimo Acanfora, a Torre Franca, in quegli anni, in pochissimi anni, viene sterminato il 40% degli ebrei che in quegli anni popolavano l'intero pianeta. Qui purtroppo è una tabella tragica, ma che riporta in qualche modo i numeri di questo atroce sterminio, i numeri della Shoah, per l'appunto. Ma, ripeto, li potrete riguardare con calma quando avrete le vostre slide. Questo è l'ultimo passaggio della lezione della scorsa volta, cioè il negazionismo. Avrete sentito dire sicuramente che c'è chi, dopo il delirio della Shoah, ha iniziato a negare che ci sia mai stato uno sterminio degli ebrei, che ci siano mai state delle camere a gas. Il negazionismo scrive lo storico che vi ho già citato, quello dal cui libro, l'antisemitismo del cui libro mi sono avvalso per realizzare questa presentazione. Il negazionismo è costituito da un insieme di dicerie che negano lo sterminio nazista degli ebrei. Frasi del tipo, le camere a gas non sono esistite, il genocidio nazista degli ebrei non c'è stato, la diceria di Auschwitz. Nel 73, Thys Christoffersen, neonazista, pubblica un opuscoletto che si intitolava La menzogna di Auschwitz, di Auschwitz-Lüge. Ma i primi e più famosi negazionisti sono stati Paolo Rassinier, deportato a Buchenwald, che scrive un libro piuttosto famoso che è La menzogna di Ulisse, nel 50, e abbiamo anche un italiano, Carlo Mattogno, che vedete qui in alto a destra. Ecco, questo, uno dei più celebri negazionisti, ancora nel 1980, diceva che le cosiddette Camere a gas hitleriane e il cosiddetto genocidio degli ebrei costituiscono un'unica menzogna storica, che ha consentito una gigantesca truffa politico-finanziaria, vedete ancora qui ci sono elementi mescolati, anche la politica, l'economia, le questioni finanziarie, perché una delle accuse storiche che sono state rivolte agli ebrei in ogni luogo, in ogni tempo, è stata proprio l'accusa di essersi insinuato nei gangri della finanza, dell'economia dei paesi delle comunità, cercando di arricchirsi a scapito delle comunità locali, cosiddette, perché poi, come ci ha spiegato anche Torrefranca la scorsa volta, gli ebrei che si stanziavano in un luogo e ci stavano per secoli, ormai erano a tutti gli effetti di quella terra, di quel luogo, così come Massimo diceva di sentirsi pienamente romano e italiano, oltre che pienamente ebreo. Ecco, però appunto sull'ebreo è sempre gravata questa accusa di occupazione abusiva, diciamo così, di un territorio, di una nazione, di un paese. Dicevo, una gigantesca truffa politico-finanziaria ai cui principali beneficiari sono lo Stato di Israele e il nazionismo internazionale e le cui principali vittime sono il popolo tedesco, non i suoi dirigenti, e l'intero popolo palestinese. Ecco, queste sono le fonti dalle quali ho tratto appunto i vari elementi che ho messo insieme per la seconda lezione che abbiamo, che abbiamo svolto e che si concluo appunto adesso, e ora un attimo che passiamo alla terza, che è quella che la preside ha già anticipato, i due contenuti la preside ha già anticipato. Allora, un attimo soltanto. Ecco qui. Il concetto di Dio dopo Auschwitz, che come vedremo è il titolo di un libro. Come è stato detto già in apertura dalla preside, nel caso degli ebrei, sia dei credenti che dei non credenti, si è posto questo interrogativo enorme, tragico per alcuni lacerante, straziante, di come abbia potuto Dio permettere Auschwitz, come Dio ha potuto lasciare che nel mondo si realizzasse, si organizzasse e si realizzasse un omicidio amministrato. Questo ha condotto, ha portato molti ebrei, ebrei diciamo così comuni, persone comuni, ma anche filosofi e teologi, a ripensare radicalmente, anche radicalmente Dio. E tra questi filosofi compare appunto Hans Jonas, che è stato uno dei più grandi filosofi del secondo novecento, che si è occupato anche di questo tema. Come è stato già anticipato dalla nostra preside, perché si pone come un interrogativo anche inquietante, oltre che drammatico, questo del perché Dio ha lasciato che si potesse procedere con un omicidio amministrato? Non soltanto perché fu proprio l'antico popolo dell'alleanza, scrive Jonas, e non un altro ad affrontare il destino dell'annientamento totale con il falso pretesto della razza, ma anche perché, a differenza del cristiano, che proietta la salvezza nell'aldilà, come ci diceva anche prima la preside, per l'ebreo che vede nella storia, nell'aldiquà, il luogo della creazione, il luogo della giustizia, il luogo della salvezza divina, Dio è in modo eminente il signore della storia. E quindi, se Dio, per l'ebreo, è il signore della storia, se la presenza, in qualche modo, di Dio si verifica, si materializza nell'aldiquà, nella storia, nella vita, e allora Auschwitz rimette in questione il concetto di Dio per come è stato tramandato dalla tradizione. Capite bene? Quindi come sia stato uno shock, l'ha definito forse proprio così, a camp foratore Franca la scorsa volta, è stato uno shock, non soltanto per i numeri di questa tragedia, ma anche per le conseguenze di tipo religioso, che appunto per gli ebrei rappresentavano un elemento davvero, come dire, costitutivo della loro stessa esistenza. Ecco, naturalmente la questione che noi stiamo ponendo è legata anche, in qualche modo, in maniera sia indiretta che indiretta, alle vicende di Primo Levi. Primo Levi il quale, come abbiamo già detto più volte, ce lo ricordava anche Massimo scorsa volta, non era un ebreo credente o praticante, si ritrovava in una posizione comune a molti altri ebrei, soprattutto piemontesi, che era una posizione di, come dire, di un ebraismo neutro per certi aspetti, dal punto di vista religioso, teologico. Due autori che hanno contribuito alla realizzazione di quel volume sulle lezioni di Primo Levi hanno utilizzato una bella espressione rispetto alla voce del sacro in Primo Levi, definendola Fiocca è un po' profana. Fiocca è un po' profana sono appunto i due aggettivi che Cavaglione e Valabrega utilizzano per riferirsi alla presenza, alla voce del sacro in Levi, che mi sembrava un testo, questo di questi due autori, molto interessante per le questioni che stiamo affrontando. Perché questi due aggettivi, Fiocca è un po' profana? Perché sono aggettivi questi che ritornano nelle pagine di Primo Levi. Fiocca, ad esempio, è la voce di Leonardo De Benedetti, una figura che si ritrova in pagine sparse, un uomo coraggioso e mite, che era l'amico di una vita, che non si levava mai con aggressività ed eccesso di energia, ma in modo tranquillo, mite, sommesso. Ecco perché la sua voce era una voce fioca. Profano, invece, è colui che non è uno specialista, colui che si avvicina a qualcosa non da esperto con il bagaglio e gli strumenti e l'occhio dell'esperto, ma con la curiosità di colui che è inesperto, che è curioso, che si avvicina a qualcosa senza essere uno specialista e in qualche modo lo fa da dilettante, ma da dilettante curioso, incuriosito. E allora, appunto, questi due aggettivi, Fiocca è un po' profana, possono essere utilizzati questi aggettivi in riferimento a come Levi intende il sacro, sulla base del rapporto che ha avuto con il sacro. Ecco, e loro appunto sostengono che Fiocca è un po' profana è la voce di Levi quando si confronta con la scrittura sacra, con le tradizioni del suo popolo, del popolo ebraico, del quale prende coscienza, come abbiamo già detto più volte, prenderà coscienza davvero, per davvero, quando verrà deportato. Perché? Perché verrà deportato non in quanto primo Levi, ma in quanto ebreo. Ovviamente le avvisaglie già c'erano state, come sapete, con le leggi razziali, abbiamo fatto quella rapida sintesi su questo punto. Quindi già da allora gli ebrei hanno iniziato a prendere coscienza del loro essere ebrei e quindi per le leggi razziali diversi è da cacciare. Ma naturalmente l'esperienza della deportazione sarà uno spartiacque essenziale, fondamentale, non solo per Levi, ma per tutti coloro che appunto all'introvviso dà una vita pienamente integrata nel tessuto sociale, politico, culturale, intellettuale, formativo, scolastico, italiano, si sono visti appunto strappati via dalla loro quotidianità, dalle proprie relazioni, dai propri affetti, per essere deportati in quanto ebrei. A differenza di quanto solitamente si è fatto, nella lezione dedicata a questo tema i due autori che vi ho citato propongono una lettura un po' particolare, interessante del rapporto tra Levi e il sacro, quello dello sguardo profano sul sacro. E lo sguardo profano è quello appunto di colui che è inesperto, lo abbiamo detto prima, ma non è ancora quello dell'ateo, non è neanche quello dell'abituale frequentatore del tempo, di colui che assiduamente e con costanza e con convinzione segue le indicazioni che la sua religione prescrive. E quindi Levi non si può, l'idea che può aver avuto Levi del sacro non è quella che poteva avere appunto un ebreo praticante per intenderci e quindi non è relativa alla religione in senso tradizionale o alla liturgia o al rito o alle scadenze, alle festività alle quali sono appunto legati gli ebrei e praticanti. Tuttavia l'aggettivo sacro non coincide in Levi con la religione ebraica. Sacro, la dimensione del sacro e della sacralità ha a che fare con l'umanità, con l'essere umano, cioè con l'appartenere dell'uomo al genere umano, all'umanità. E infatti Levi in pagine sparse scrive che l'uomo è, deve essere sacro all'uomo dovunque e sempre. Un po' come Kant che ci diceva che l'uomo deve essere considerato un fine, non un mezzo, un fine per gli altri uomini, quindi un fine in sé, in sé stesso, per sé stesso. Ecco, allo stesso modo l'uomo deve essere considerato sacro agli altri uomini, dovunque e sempre. E il sacro prevede sempre anche per uno scienziato, per un chimico, qualche forma di ritualità. Ad esempio, scrive Levi in pagine sparse, il chimico, alla sera, quando disegna la formula di scrittura della molecola che domani dovrà costruire, compie lo stesso rito propiziatorio del cacciatore di Altamira che 50.000 anni fa disegnava sulle pareti delle caverne l'alcio o il bisonte che il giorno dopo avrebbe dovuto abbattere, per appropriarsene far suo l'antagonista. Gesti sacrali, ambedue. Ma ecco, per quanto riguarda questo rapporto tra Levi e il sacro, un momento particolare e come vedremo anche interessante dal punto di vista, se vogliamo, anche filologico, è Eschemà. Cioè una, che significa ascolta in ebraico, che è di fatto una preghiera, è una preghiera che si ritrova nella Bibbia ebraica e che Levi in qualche modo recupera, riprende e la colloca all'inizio di se questo è un uomo. La colloca come in epigrafe, ve lo faccio vedere. Ecco se questo è un uomo. Ecco qui. Non so se si vede. Ecco, tanto poi la prossima lezione leggeremo molte pagine dei vari testi di Levi e quindi potremo vederlo anche su stampa. Dicevo, nella Bibbia ebraica si legge questo, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze e saranno queste parole che io ti comando oggi sul tuo cuore. Le ripeterai ai tuoi figli e ne parlerai con loro stando nella tua casa, camminando per la via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. La versione di Levi è, qui vi ho riportato soltanto le ultime versi, ma scrive Levi, voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sere il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo, che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. E qui ritorna anche il tema della fortuna, che dicevamo nel nostro primo incontro, del caso. Senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rama d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando, ed ecco in qualche modo l'imperativo, l'ammonimento che richiama la preghiera ebraica, vi comando queste parole, scolpitere nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, esattamente come si legge nella Bibbia, camminando per la via, coricandovi, alzandovi, ripetetela ai vostri figli, o vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Ecco, più di qualcuno si è posto la domanda, ma forse, dicono gli autori, non ci si è mai soffermato abbastanza, sul perché abbia scelto Levi, che era appunto un ebreo non praticante di fatto, non frequentava la sinagoga, non frequentava la comunità ebraica da questo punto di vista, perché ha pensato di fare una scelta così impegnativa, di mettere una sorta di preghiera in epigrafe che richiama la preghiera della Bibbia ebraica. Tra l'altro, non ci si aspetterebbe, scrivono gli autori questa cosa, da uno scienziato, come era appunto Levi, abbiamo già detto che la sua attività di chimico lo accompagnerà fino alla pensione. Si tratta in qualche modo di una professione di fede collocata in un punto decisamente importante, è l'epigrafe, è l'inizio del libro. E questo, scrivono gli autori, colloca immediatamente Levi a un livello elevatissimo, proprio in virtù di questa scelta impegnativa di mettere queste parole all'inizio del suo libro, del suo primo libro. Però non avrà a lunga durata questa adesione all'ebraismo, perché alla fine del 59, Levi, comunicando con il traduttore tedesco, perché come ricorderete, Saquestanuomo a un certo punto inizia a essere tradotto in diverse altre lingue, tra cui anche il tedesco, Heinz, Ritt è il traduttore, era il traduttore di Saquestanuomo, ecco, gli scrive e gli chiede, guarda Heinz, per favore sostituisci Schema con un'altra poesia, sempre di Levi, che era del 45 e si intitola Il canto del corvo, ed è questa qui. «Sono venuto di molto lontano per portare mala novella, ho superato la montagna, ho forato la nuvola bassa, mi sono specchiato il ventre nello stagno, ho volato senza riposo per cento miglia senza riposo, per trovare la tua finestra, per trovare il tuo orecchio, per portarti la nuova trista che ti tolga la gioia del sonno, che ti corrompa il pane e il vino, che ti sieda ogni sera nel cuore. Così cantava turpe danzando di là dal vetro sopra la neve, come tacco e guardo maligno, segnò col becco il suolo in croce e tese aperte le ali nere». Quindi nel 59 Levi chiede al suo traduttore tedesco di sostituire la poesia in epigrafe che vi ho letto prima e che è qui sulla edizione italiana, di sostituirla con Il canto del corvo. E però, perché ci si chiede, perché la scelta di sostituire quella preghiera con questa poesia? Forse perché si trattava dell'edizione tedesca e quindi voleva che fin dalla primissima pagina l'effetto sul lettore tedesco fosse particolarmente energico. Gli autori a cui ci stiamo rifacendo sostengono che si tratterebbe di una motivazione un po' debole. Forse invece la motivazione o le motivazioni hanno a che fare con qualcosa di più ampio che la sola persona di Primo Levi. E quindi riferimento, in questo caso, sarebbe il contesto, il clima culturale dell'Italia della fine degli anni 50. E quindi non possiamo escludere che Levi abbia deciso, scrivono gli autori, di rendere più fievole, più blando, diciamo così, il richiamo identitario all'ebraismo per assecondare il contesto di una cultura che si veniva affermando in Italia a partire dagli anni 50. Che tipo di cultura? Una cultura che era poco disposta ad accettare l'esistenza di uno scrittore ebreo, troppo ebreo. Ecco, in questo modo si potrebbe forse spiegare la scelta di alleggerire la sua voce ebraica, di renderla, oltre che profana, anche fioca. Proprio quando il sogno che lui aveva di tradurre il testo nella lingua dei suoi carnefici si stava realizzando. Facendo poi un salto in avanti, da Se questo è un uomo, possiamo passare a un altro luogo della produzione di Levi, che è già più volte citato il sistema periodico, ce ne ha parlato anche Massimo Acanfora la scorsa volta, nel capitolo Carbonio in particolare, perché è un capitolo nel quale Primo Levi affronta in qualche modo la questione, ossia dentro nel mondo, nell'ambito sacro. ci sarebbe in realtà da leggerlo tutto questo capitolo, e io direi che questa cosa la possiamo tranquillamente rinviare, perché ho già preso alcune pagine di questo libro, già inserite nella prossima lezione, direi che potremmo direttamente rinviare questa lettura, anche perché il capitolo Carbonio forse è uno dei più belli del sistema periodico. Ecco, mentre in Shema appunto c'è un'esortazione a non dimenticare, l'abbiamo letto, Levi chiede con forza di scolpire nel cuore le sue parole, lui comanda di ascoltare e meditare su quello che è stato, su quello che sono stati i campi di sterminio. Quindi lo fa nella forma dell'esortazione a non dimenticare, facendo appello anche a immagini potenti, immagini potenti come quelle che vi ho letto, l'uomo che lotta per mezzo pane, che non conosce pace, che lavora nel fango, senza capelli e senza nome. In Carbonio la questione viene affrontata invece in modo più rassicurante. Sarà perché il tempo è trascorso, sarà perché inizia a guardare con un certo distacco analitico al suo passato. Però, però, quello che è essenziale sottolineare è che il 1945, che è l'anno in cui si chiude la Seconda Guerra Mondiale, rappresenta in qualche modo uno spartiacco e non soltanto per Primo Levi, ma in generale per gli ebrei italiani, i piemontesi o per gli ebrei in generale. Come dicevamo, fino al 1945, per la sua origine, la sua cultura, come per la maggior parte degli ebrei piemontesi, Levi non era stato né un sionista, né un antisionista, ma era stato un azionista. Guardava al sionismo, l'abbiamo detto, alla religione, alla religione del suo popolo, con lo sguardo di colui, dell'osservatore, in qualche modo, dell'osservatore esterno, e non frequentava, in particolare, i gruppi più vicini alla pratica religiosa. E questa forma di azionismo, come vi dicevo, è condivisa da molti altri intellettuali o ebrei piemontesi. Ve ne ho messi qui tre, tre più famosi, Vittorio Foa, Carlo Levi, Eritalevi Montalcini, tutti e tre intellettuali, Eritalevi Montalcini è scienziata, e tutti ebrei nati a Torino, che condividevano questa forma di ebraismo che era un azionismo. Ecco, però perché dicevamo prima e dopo il 45? Perché dal 45, sì, finisce la guerra, ma poi negli anni successivi, dalla Costituzione dello Stato di Israele, che avviene, come sapete, nel 47 in poi, ci saranno tutta una serie di eventi storici che in qualche modo segneranno un cambiamento di rotta, un cambiamento di atteggiamento nei confronti di Israele e dell'ebraismo. Dopo la guerra, Levi continuerà a rimanere un ebreo della diaspora, però appunto cambierà via via il suo atteggiamento nei confronti di Israele. Quella terra rappresentava, scrive, per i sopravvissuti allo sterminio l'unico luogo dove ricominciare a vivere, ma anche il laboratorio di un socialismo libero da dogmi politici o religiosi. Ecco, che cosa succede nei decenni successivi? Io vi ho indicato quattro tappe essenziali che hanno influito non solo sulla storia di Israele, ma in generale degli ebrei nel mondo. Nel 67 la guerra dei sei giorni, le Olimpiadi di Monaco del 72, la guerra del Kippur del 73 e la crisi del Libano nell'82. E qui apriamo inevitabilmente necessariamente un'altra parentesi di tipo storico, diciamo così, come abbiamo già fatto, perché è importante per capire, ripeto, la situazione del popolo ebraico che si mescola in parte all'antisionismo di cui abbiamo parlato nell'altra lezione, perché ovviamente la posizione, chiamiamola così, degli ebrei, del popolo ebraico nella storia ha a che fare con il modo in cui quel popolo è stato vissuto o ha a che fare con le forme delle relazioni con quel popolo, le forme storiche delle relazioni con quel popolo, insomma, quello di cui abbiamo parlato fino adesso, ma ha a che fare anche con il modo in cui gli ebrei hanno iniziato a guardare loro stessi, a ripensarsi. Che cosa succede? Facciamo un piccolo passo indietro negli anni della prima guerra mondiale. 1916, cade l'impero ottomano, Francia e Gran Bretagna si dividono le zone di influenza di tutta l'area compresa tra la Turchia e la penisola arabica, lo vedete nella cartina. Alla Francia sarebbero toccati, vedete, i territori in blu, la Siria e il Libano, alla Gran Bretagna la Mesopotamia che sarebbe l'Iraq e la Palestina. Vedete la zona in rosso. In Palestina il 2 novembre del 17 il governo britannico nella persona dell'allora ministro degli esteri Arthur James Belfort che cosa fa? Riconosce il diritto del movimento sionista di creare una sede nazionale per il popolo ebraico. quindi è diciamo l'anticamera la premessa alla Costituzione dello Stato di Israele che avverrà 30 anni dopo nel 47. Secondo il progetto lanciato da chi? Lanciato alla fine dell'Ottocento da quest'uomo qui da Teod Herz che era un ebreo appunto che morì molto giovane a 44 anni ed è considerato il fondatore del movimento sionista e quale obiettivo aveva questo movimento sionista uno su tutti quello di creare uno stato ebraico uno stato ebraico nel quale gli ebrei sarebbero potuti ritornare che poi appunto quello che avverrà a metà del novecento un territorio uno stato appunto nel quale gli ebrei di tutto il mondo ci siete? Sì Giacomo sentiamo gli ebrei di tutto il mondo potessero ritornare tornare ritornare per sfuggire alle persecuzioni e siamo alla fine dell'Ottocento lo stato ebraico che è un libro che scrive nel 1896 qualche anno prima di morire lui Herzl pone la questione degli ebrei sotto la luce diciamo della sotto la luce politica istituzionale è una questione politica storica che va affrontata e risolta da tutti deve essere un carico diciamo così che le nazioni dovrebbero assumersi e che cosa fa? organizza dopo l'uscita di questo libro un congresso mondiale nel 1897 e diventa il primo presidente come fondatore appunto dell'organizzazione mondiale sionista morirà appunto nel 1904 senza vedere realizzato il suo sogno che appunto come abbiamo già ripetuto si realizzerà nel 1947 però appunto rimarrà uno dei delle voci uno degli ispiratori delle politiche sioniste che avevano appunto come obiettivo quello della Costituzione dello Stato di Israele ecco con la dichiarazione con la cosiddetta dichiarazione Belfour perché è così che verrà chiamata dall'ora in poi vengono salvaguardati i diritti e religiosi attenzione non ancora politici civili e religiosi delle comunità non ebraiche e viene legittimata l'immigrazione sionista che così inizia a produrre che cosa? dei piccoli parziali rientri di comunità ebraiche sparse per il mondo in quella zona ma già all'inizio degli anni venti iniziano gli scontri tra i coloni ebrei e residenti arabi quello che vedete qui è la prima pagina del Palestine Post in cui si annuncia la nascita dello Stato di Israele nel 1945 in Palestina gli ebrei erano 550 mila e gli arabi erano un milione e 250 mila dopo la creazione dello Stato di Israele le tensioni continueranno ad aumentare nel maggio del 1948 ci sarà la prima guerra arabo-israeliana che durerà per otto mesi circa insomma fino al gennaio del 49 e che si concluderà con la totale disfatta degli eserciti arabi che erano rispetto a quello israeliano mal equipaggiato e mal coordinato e arriviamo appunto alla guerra dei sei giorni del 1967 il Medio Oriente è un focolaio una zona di tensione permanente come purtroppo lo sapete anche voi ancora adesso a causa del conflitto appunto tra Israele e i popoli e le comunità arabe della zona che cosa succede nel 67 il leader egiziano Gamal Abdel Nasser proclama la chiusura del golfo di Aqaba che è questo qui leggete il golfo di Aqaba che era uno snodo importante molto importante per gli approvvigionamenti israeliani Israele è qui quindi se tu mi chiudi il golfo è evidente che crei delle difficoltà enormi per l'approvvigionamento via mare e lo fa questo leader egiziano stringendo un patto militare con la Giordania che è qui a destra che confina con Israele Israele che cosa fa gli israeliani rispondono con un attacco militare preventivo il 5 giugno del 67 al quale seguono 6 giorni di conflitto anche in questo caso il risultato per gli arabi fu disastroso perché già nelle prime ore tutta l'aviazione l'aviazione egiziana quasi integralmente verrà distrutta prima ancora che riuscisse a decollare che cosa succede subito dopo che l'Egitto perde scusatemi ecco l'Egitto è qui l'Egitto perde la penisola del Sinai ok eccola qua la Giordania perde tutti i territori dell'arrivo occidentale del Giordano compresa la parte orientale di Gerusalemme abbiamo detto che la Giordania è qui e la Siria perde le alture del Golan qui non è gli arabi conteranno dopo la guerra dei sei giorni più di 30.000 morti gli israeliani poche centinaia altri 400.000 palestinesi fuggiranno in Giordania e in altri paesi arabi che cosa successe dopo questi sei giorni la guerra dei sei giorni il declino di Nasser intanto determinerà il declino di Nasser del leader egiziano ma anche il distacco dei movimenti di resistenza palestinese riuniti nell'OLP nell'organizzazione per la liberazione della Palestina che dal 69 sarà guidato da Yasser Arafat che vedete qui in alto e dal 2004 dopo la sua morte da Abu Mazen che vedete qui in basso che probabilmente avrete sentito nominare in qualche tre giornale Arafat forse forse no perché è morto nel 2004 ma Abu Mazen probabilmente sì ecco un altro momento di grande tensione sarà la guerra del Kippur nel 73 sto un attimo dando un'occhiata ragazzi alle mie pagine per rendermi conto dell'organizzazione si direi che possiamo ancora proseguire ecco che cosa succede di nuovo all'inizio degli anni 70 Nasser che comunque dopo la guerra dei sei giorni in qualche modo dal punto di vista politico si era bruciato muore e gli succede Sadat che vorrebbe dare alla politica egiziana soprattutto alla politica estera ma anche a quella interna un'impronta che fosse meno ideologica e più realistica qual era l'obiettivo uno degli obiettivi che si poneva dal punto di vista della politica scusate della politica estera quella di recuperare il Sinai e lo vuole fare però inizialmente con una certa attenzione e anche magari con un confronto con Israele il 6 ottobre del 73 che è un giorno di festa per gli ebrei la festa dello Yom Kippur truppe egiziane attaccano le forze israeliane sul canale di Suez dilagando nel Sinai vi faccio un attimo rivedere rapidamente la cartina vedete il Sinai la penisola del Sinai che dopo la guerra dei sei giorni l'Egitto aveva perso ecco contemporaneamente truppe siriane attaccano il Golan Israele ancora una volta si vede in qualche modo attaccato accerchiato e pur essendo stato colto di sorpresa risponde all'attacco e passa alla controffensiva penetra il territorio egiziano poi intervengono anche gli Stati Uniti che cercano di mediare tra le parti e si giunge a un cessato il fuoco che in qualche modo rappresenterà una sorta di pareggio diciamo così sulla carta un'assenza di vincitori e di vinti ma in realtà le conseguenze a livello internazionale furono gravi e perché quali furono queste conseguenze la chiusura del canale di Suez per due anni e il blocco petrolifero decretato dagli Stati Arabi contro i paesi occidentali che erano considerati amici di Israele primo fra tutti gli Stati Uniti che cosa verrà fuori dalla famosa crisi petrolifera del 73 una delle più gravi crisi economiche mondiali generalmente quando si fa una storia diciamo così delle crisi economiche da quella del 29 in poi una di quelle che si cita puntualmente è esattamente questa successiva al 73 un altro momento di grandissima tensione non so magari questo fatto l'avete conosciuto per altre per altre vie un altro momento di grande tensione sarà rappresentato dal sequestro operato da un gruppo terroristico palestinese durante le Olimpiadi di Monaco del 72 quindi l'anno prima siamo al 5 settembre del 72 è l'undicesimo giorno delle Olimpiadi e appunto un gruppo terroristico questa foto non è una ricostruzione è una delle poche foto che si riescono a trovare di quel del gruppo di uno dei componenti del gruppo terroristico fa eruzione negli alloggi dove si trovava la squadra olimpica israeliana due atleti vengono subito uccisi e altri nove vengono presi in ostaggio e resteranno in ostaggio per quasi un giorno intero questo gruppo terroristico si chiamava settembre nero e come spesso è accaduto questo fatto questa 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 azione terroristica era aveva prevedeva una contropartita che doveva essere il rilascio la liberazione di alcuni prigionieri che erano chiusi reclusi nelle carceri israeliane poco più di 200 234 prigionieri ma anche chiedevano ai terroristi il rilascio di due terroristi tedeschi di estrema sinistra detenuti in Germania succede però che le trattative vanno avanti in maniera disordinata in maniera lenta con poco coordinamento come richiesto dal commando gli stessi terroristi i nove atleti tenuti in ostaggio vengono trasferiti in elicottero in un vicino aeroporto e lì poi sarebbero dovuti decollare per raggiungere il Medio Oriente ma il piano della polizia che voleva in qualche modo colpire gli attentatori nel passaggio dall'elicottero all'aereo fallisce scoppierà una sparatoria e l'esito sarà drammatico perché moriranno 5 terroristi il pilota dell'elicottero un poliziotto tedesco e tutti gli atleti israeliani capite bene che questo fatto del 72 e poi il fatto del 73 e poi quello che stiamo per dire la crisi del libero dell'82 capite bene come sulla storia di quel pezzo di globo gravi nei decenni gravi su quel territorio motivi di tensione fortissimi ecco perché quando oggi sentite ancora nei telegiornali alta tensione tra palestinesi e israeliani oppure sentite di un missile sparato dai palestinesi verso Israele o una risposta di Israele verso la Palestina insomma tutta questa situazione di attuale fibrillazione costante e di difficoltà esistenziale perché se non ricordo male l'ho accenato anche Massimo Canfora che ha vissuto in Israele per molti anni forse anche un figlio che vive lì se non ricordo male o comunque ha amici che vivono lì in effetti si vive quasi alla giornata in Israele perché effettivamente non sai mai che cosa può succedere di lì a poche a poche ore o a pochi minuti ecco se qualora non aveste approfondito prima di oggi prima di questi giorni le vicende che hanno caratterizzato la storia di quel territorio ecco questo è un momento forse utile dicevamo crisi del Libano come ci si arriva l'abbiamo già detto 47 costituzioni del Stato di Israele tensioni alle stelle tra i sereliani e i palestinesi guerra dei sei giorni sequestro durante le Olimpiadi del 72 guarda il Kipur le tensioni ovviamente hanno ripercussioni su tutta la zona su tutta l'area compreso il Libano e il Libano che caratteristiche aveva questo paese era uno stato multietnico intanto e multireligioso dove convivevano e coesistevano etnie e religioni diverse e lì l'OLP aveva piazzato le basi le proprie basi dopo le vicende del 72 l'arrivo dei palestinesi fa saltare l'equilibrio che si era riuscito a mantenere in quel territorio abbiamo detto che il Libano è un paese multireligioso quindi c'era una sorta di equilibrio seppur fragile l'arrivo dei palestinesi in Libano crea fibrillazioni che poi sfoceranno in una in un momento di altissima tensione dal 75 tra l'altro il Libano entra in una lunga fase di guerra civile una sorta di tutti contro tutti e in questa situazione estremamente critica che caratterizzava il Libano si inserisce anche la vicenda israeliana in che modo perché nell'estate dell'82 israele invade il Libano perché perché voleva smantellare l'OLP che aveva piazzato appunto le proprie basi lì in Libano quindi aveva intenzione di sradicare l'OLP dal Libano e il successivo invio a Beirut di una forza multinazionale di pace che era stata messa insieme da Stati Uniti Francia Gran Bretagna e anche con la partecipazione del nostro paese dell'Italia riuscì a consentire l'evacuazione dei combattenti di coloro che facevano parte dell'OLP che erano appunto lì in Libano e anche il ritiro degli israeliani nell'85 quindi tre anni dopo ma questo però non fu sufficiente per pacificare l'area e allora arriviamo al massacro di Sabre Shatila che è una strage avvenuta nei campi profughi palestinesi in Libano tra il 16 e il 18 settembre dell'82 nei pressi appunto di Beirut durante l'invasione israeliana mentre le truppe israeliane si ritiravano il nuovo presidente Jumail viene ucciso e come forma di ritorsione le truppe cristiane delle falangi libanesi che erano alleate di Israele entrano nei campi di Sabre Shatila e uccidono qualcosa come 3500 persone secondo alcuni poche centinaia secondo altri ma comunque è una cifra potete immaginare altissima con a quanto pare l'assenso tacito dell'esercito israeliano che stazionava lì fuori dai campi ecco perché abbiamo aperto queste finestre storiche ve lo dicevo prima perché queste vicende hanno segnato in modo netto in alcuni casi l'atteggiamento di molti ebrei sparsi nel mondo non parlo degli ebrei che vivevano nello stato di Israele molti ebrei sparsi nel mondo rispetto appunto al proprio essere al proprio sentirsi ebrei e anche nel rapporto con lo stato di Israele non muta prima di aprire queste finestre storiche dicevamo come leggete come l'atteggiamento più protettivo e paterno di Levine con fronte dello stato di Israele che emerge nel 47 48 non muta con il succedersi degli eventi drammatici a cui abbiamo fatto riferimento tornando alla lezione di Cavaglione Valabrega va detto che però negli anni 80 ci sarà una svolta nel modo di percepire il mondo ebraico e questa svolta appunto sulla scorta anche dei fatti di cui abbiamo parlato coincide con l'apertura di tre nuovi fronti che hanno a che fare però in questo caso con la storia dell'ebraismo italiano quali sono questi tre nuovi fronti le tre novità che vengono introdotte che emergono diciamo così nel nostro contesto una più diffusa conoscenza in Italia dell'ebraismo centro-europeo del mondo yiddish la riscoperta storiografica dell'antisemitismo fascista perché ovviamente potete immaginare che quando noi ci rifacciamo quando noi ci riferiamo all'antisemitismo fascista anche rifacendoci alle leggi razzali di cui abbiamo parlato ecco non ne parliamo adesso nel 2020 ma non è che negli anni immediatamente successivi alla caduta del fascismo o nel secondo dopoguerra la storiografia era aveva ancora gli strumenti che poi ha acquisito nel tempo per dare una fisionomia e una interpretazione all'antisemitismo fascista cosa che appunto avviene nel corso degli anni Ottanta terzo elemento l'ostilità crescente della sinistra italiana e anche dell'azionismo torinese nei confronti di Israele una ostilità che è legata politicamente o ideologicamente anche alle vicende di cui abbiamo parlato prima ecco perché ve ne ho voluto parlare questi aspetti si intrecciano con la produzione letteraria di Primo Levi e in particolare si lega all'uscita del romanzo dell'ottantadue appunto se non ora quando ma appunto come potete leggere di questo ne parleremo nella prossima puntata perché nella prossima lezione come vi ho già anticipato parleremo dei ci rifaremo ai testi leggeremo molte pagine di Levi e cercheremo di coglierne come dire il messaggio profondo ma anche di coglierne le qualità letterarie perché colgo l'occasione per ripeterlo ancora una volta Primo Levi va considerato innanzitutto uno scrittore e poi un sopravvissuto e un autore trattino testimone e questo appunto l'ha dimostrato nel corso di tutta la sua esistenza con i libri saggi le poesie con tutta l'attività letteraria che ha svolto e sviluppato nel corso dei decenni però ecco torniamo adesso dopo aver fatto questa lunga parentesi che però ci ha in qualche modo collocato nella storia del popolo d'Israele del popolo ebraico per meglio dire del novecento torniamo alla questione di partenza e cioè del rapporto degli ebrei con Dio dopo Auschwitz e c'è un passo nei sommersi salvati che vi ho già citato il primo giorno però ve l'ho citato a proposito della questione della fortuna in cui in cui in cui in cui Levi fa in qualche modo riferimento a Dio al fatto di credere o non credere dopo quello che è successo ad Auschwitz vi ricordate il passo iniziava con al mio ritorno dalla prigionia è venuto a visitarmi un amico più anziano di me mito intransigente cultore di una religione sua personale eccetera eccetera mi disse che l'essere io sopravvissuto non poteva essere stata opera del caso ecco l'ebreo praticante non crede al caso non attribuisce il fatto di essere sopravvissuto al caso o all'accumularsi di circostanze fortunate ma che cosa l'attribuisce alla provvidenza ero un contrassegnato un eletto io dice Primo Levi il non credente e ancora ed ecco il passaggio ancora meno credente dopo la stagione di Auschwitz ero un toccato dalla grazia un salvato attenzione a questo passaggio Levi scrive io il non credente e ancora meno credente dopo la stagione di Auschwitz perché appunto questa l'esperienza di una sorta di ripensamento in alcuni casi di ritiro proprio nei confronti della propria fede fervente è una caratteristica diffusa nel mondo ebraico dopo Auschwitz e quindi la questione del ruolo della presenza o della responsabilità di Dio rispetto alla Shoah si intrecciano con un altro tema profondo complesso che è quello del silenzio di Dio la inattività ma anche il silenzio di Dio è come se per molti di loro a un certo punto Dio fosse rimasto oltre che inattivo anche in silenzio ma Dio allora va considerato un'entità personale o impersonale perché quello di cui stiamo parlando l'azione o la non azione la parola oppure il silenzio fanno riferimento o danno come dire per scontata l'idea di Dio inteso come un'entità personale Dio in quanto persona può entrare in contatto in dialogo con me oppure in qualità di entità impersonale rimane irraggiungibile e quindi lontano dal discorso umano e quindi la sua eventuale inattività il suo eventuale silenzio resterebbero comunque per me inaccessibili nelle loro motivazioni nelle loro cause e nel momento in cui ci poniamo il problema di comunicare con Dio ovviamente noi ci poniamo nelle condizioni di chi aspetta una risposta e più delle volte le nostre preghiere rappresentano il bisogno di realizzare delle speranze di raggiungere dei traguardi degli obiettivi oppure di alleggerire delle sofferenze in fondo spesso si prega anche per questo si prega per cercare conforto nella preghiera e per cercare di attivare un canale comunicativo con Dio ma se possiamo rivolgerci a Dio mossi dall'idea di vedere esaudite le nostre richieste le nostre preghiere è per via di una qualità che noi attribuiamo a Dio essenziale che è la sua onnipotenza e adesso capirete perché stiamo parlando di questo ecco nel corso del secolo scorso a causa appunto degli eventi in primis la Shoah che hanno caratterizzato in modo drammatico la vita degli ebrei che abbiamo già detto essere stata una storia un destino per secoli un destino fatto di sofferenza e di persecuzione ecco l'immagine di un Dio onnipotente è stata ripensata perché ci si è chiesti come può un Dio onnipotente e benevolo governare un mondo pieno di innocenti che soffrono e un mondo pieno di malvagi che restano impuniti come può un Dio benevolo e onnipotente non intervenire rispetto all'organizzazione scientifica dello sterminio del suo popolo degli uomini ma in particolare del suo popolo è la domanda sui tempi di realizzazione della giustizia di Dio su questa terra su questa terra affligge i primi cristiani ma appare i cristiani di oggi ancora più scottanti e lo era come si è detto fino all'inizio anche per gli ebrei che appunto credono nella realizzazione della giustizia di Dio nell'aldiqua Sergio Quinto che è un grande studioso ricorda che il Vangelo di Luca narra di una parabola raccontata da Gesù della vedova che riesce a ottenere giustizia davanti a un giudice iniquo assillato dalle insistenze della donna e scrive si legge nel Vangelo secondo Luca e il Signore disse ascoltate quel che dice giudice ingiusto Dio non renderà dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui tarderà nei loro confronti io vi dico che renderà giustizia con prontezza Sergio Quinzi appunto questo studioso si domanda in questo libretto bellissimo che si intitola un titolo molto forte molto eloquente La sconfitta di Dio si domanda se mai potremmo dire che questa giustizia è davvero stata resa da duemila anni a questa parte e guardando appunto la storia dell'uomo la storia dell'umanità da duemila anni a questa parte è difficile sembra difficile affermare che giustizia sia stata fatta però si potrebbe obiettare sostiene Quinzio che la giustizia di Dio non è di questo mondo non si potrà realizzare interamente in questa vita ma troverà compimento dove? nella vita eterna nella vita dopo la morte ma per poter dire se Dio scrive Quinzio ha reso o non ha reso giustizia se ha esaudito o no le millenarie richieste di quelli che confidando nella sua parola e sottinteso confidando nella sua onnipotenza hanno gridato a lui giorno e notte è necessario preventivamente chiederci che cosa Dio ci ha promesso le promesse di Dio la redenzione questa però da un punto di vista cristiano perché poi apro e chiudo parentesi la domanda su Dio dopo Auschwitz non se la sono posta soltanto gli ebrei ovviamente gli ebrei se la sono posta in tutta la loro scottante drammaticità in tutta la sua scottante drammaticità se la sono posta gli ebrei per primi perché sono stati l'oggetto principale dello sterminio ma ovviamente se lo sono posto anche i cristiani è una è una domanda ripeto teologicamente ma anche filosoficamente e storicamente molto impegnativa estremamente pregnante che però ha coinvolto appunto non soltanto gli ebrei ma anche i cristiani dicevo le promesse fatte da Dio e la redenzione cristiana non riguardavano le realtà interiori e spirituali ma la concretezza dell'esistenza vera e propria dell'esistenza storica della corporeità e se le promesse di Dio sono fatte alla carne la carne non può che esigerne ovviamente l'immediato compimento e le sagre scritture e scrive Quinzio sono ricche di riferimenti a sofferenze concrete e a speranze ugualmente concrete ad esempio nel libro di Giolbe in cui tutto il discorso è costruito sullo scandalo della sofferenza e di una sofferenza che consiste anzitutto in una sofferenza materiale che ha a che fare con la vita vera e cioè con la perdita dei beni dei figli della salute Preside io ho quasi finito vogliamo vado avanti o diamo la parola ai ragazzi no penso che possiamo avviarci alla conclusione e poi magari riprendere anche il discorso dopo visto insomma che un'ora e mezza insomma direzione se ci sono domande da parte dei ragazzi resterebbero una decina ancora sì sì lo facciamo ci sono domande ragazzi no possiamo continuare ecco sempre seguendo in qualche modo le argomentazioni di Quinzio secondo Sergio Quinzio una lettura erronea dei testi sagri che si è fatta in relazione a questo tema qui delle promesse di Dio dell'eventuale realizzazione delle richieste fatte a Dio della loro eventuale realizzazione in questa storia in questa vita e concretamente oppure in un'altra vita e non concretamente ecco tutte queste domande e l'interpretazione della realtà materiale come allegoria delle realtà spirituali ha comportato per Quinzio una distorsione per la quale l'anima è stata contrapposta al corpo e lo spirito è stato contrapposto alla materia l'aldiqua è stato contrapposto all'aldilà potremmo dire questa distinzione non era presente alle origini cristiane alla carne attenzione a questa frase alla carne promessa la vita senza fine questa frase a noi sembrerebbe assurda perché noi se dovessimo immaginare se dovessimo pensare alla vita senza fine penseremmo al massimo alla nostra anima per esempio a una vita spirituale dopo la morte ma non penseremmo alla carne alla carne invece alle origini cristiane è promessa la vita senza fine e in un passo della lettera ai romani di San Paolo io ve lo consiglio a me è capitato un po' di anni fa di occuparmi di queste questioni dal punto di vista filosofico e quindi ho comprato le lettere di San Paolo me le sono lette e sono qualcosa di strepitoso quindi vi consiglio che crediate o meno che siate credenti o non credenti vi consiglio di leggere alcune di queste cose di questo tipo di letteratura perché sono testi strepitosi ecco in un passo della lettera ai romani San Paolo è stato dichiarato oscuro per sfuggire alla radicalità dei suoi contenuti da questo passo che cosa viene fuori viene fuori l'idea di una creazione che è sottomessa alla caducità di una creazione che attende di essere liberata dalla corruzione di una creazione inaspettatamente che geme che soffre perché dico inaspettatamente perché parlare di creazione che geme che soffre rinvia che cosa l'idea di un Dio che è anche egli sofferente e quindi non onnipotente perché un Dio onnipotente non potrebbe essere un Dio sofferente l'idea della sofferenza di Dio implica scrive Peter Berger che è un altro filosofo importante che si è molto occupato di queste questioni l'idea della sofferenza di Dio implica una temporanea limitazione della sua onnipotenza come si potrebbe pensare in effetti a un Dio onnipotente che allo stesso tempo soffre Preside io probabilmente mi fermerei qui su questo punto perché altrimenti rischiamo di sforare troppo e finirei la prossima la prossima volta in modo da magari collegare anche questo discorso direttamente a se questo è un uomo grazie ci sono domande da parte degli studenti dei ragazzi delle ragazze o dei docenti anche perché queste questioni mi rendo conto che sono un po' complesse quindi quindi magari lasciamo un attimo respirare in qualche modo i ragazzi e poi sono questioni complesse però credo che insomma si sia compresa la linea di pensiero e qui sicuramente ci sarebbero una serie di osservazioni da fare su quest'ultimo e io ho trovato molto interessante la ricostruzione storica politica per comprendere per comprendere il novecento insomma e comprendere anche la questione la questione palestinese e i conflitti ancora presenti in Medio Oriente e devo dire che a questioni religiose politiche geopolitiche geopolitiche certo devo dire che poi negli ultimi anni nonostante i problemi siano lì risolti sono meno presenti nelle cronache di tutti i giorni cosa invece che avveniva spessissimo negli anni ottanta e negli anni novanta no perché infatti noi diciamo che nella nostra giovinezza parlo di me dei docenti l'abbiamo l'abbiamo vissuta quasi quotidianamente no ora l'equilibrio diciamo rimane sempre precario ma è come se si fosse negli ultimi anni stabilita una sorta di di tregua almeno con riferimento ai conflitti sanguinosi che hanno caratterizzato gli anni ottanta e novanta però la ricostruzione storica è veramente che tu hai fatto veramente importante secondo me andrebbe ripresa per comprendere anche quel periodo della storia contemporanea che spesso nelle scuole viene per una serie di motivi diciamo trascurato si è trascurato e poi c'è quest'altra parte sì questa molto più complessa di natura religiosa di natura filosofica perché poi va anche ad impattare con un altro discorso che è quello della narrazione del Dio all'interno delle tradizioni non solamente cristiana ma anche musulmane cioè della rappresentazione del Dio che inevitabilmente viene narrato con riferimento alla vita dell'uomo e a un contesto di sacrificio e ricompense sacrificio e ricompense in termini spesso umani relativi ed è lì l'equivoco o se vogliamo la grande questione ma non dell'ultimo secolo a partire da sempre basta pensare a Pascal che nel dire bisogna scommettere scommettere è rapportato a che cosa a ciò che l'individuo personalmente può ottenere come ricompensa e quindi va beh grazie per questo per questo intervento e se non ci sono niente di intervento chiudiamo e ci vediamo venerdì alle 15 alle 15 che Grazie.